Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di token di exchange da dividendo. Sono in sostanza dei token che permettono ai possessori di percepire dividendi derivanti dai profitti prodotti e generati dagli exchange. Quindi detto in altre parole, ci sono delle piattaforme dove si può comprare e vendere criptovalute. Queste piattaforme generano dei profitti perché applicano appunto delle commissioni, si fanno pagare e rilasciano una parte di questi profitti ai possessori di token da dividendo. Non tutti gli exchange ovviamente hanno un token da dividendo. Alcuni non hanno un token, altri magari hanno un token che permette di abbassare le fili trading. Comunque, prestate molta attenzione perché questo qua è un tipo di investimento molto molto rischioso, molto pericoloso, dove si può perdere anche tutto il capitale. Sappiamo benissimo che gli exchange vengono hackerati di continuo, quindi fate molta molta attenzione. Fatemi sapere nei commenti se ho scordato qualche token da dividendo e da exchange ovviamente e fatemi sapere se già state investendo in questi token e qual è il vostro preferito. Allora, iniziamo da quello che preferisco io personalmente. Se proprio dovessi investire in token di exchange da dividendo, sceglierei probabilmente Kucoin. Kucoin è un exchange che sta comunque crescendo e si sta sempre rinnovando. Rilascia in questo momento il 40% delle fili trading ai possessori del token, paga in 24 ore i propri dividendi e c'è un minimo di token da avere per ricevere i dividendi. È comunque un importo molto basso, quindi non vi state a preoccupare. Allora, come ripaga gli utenti Kucoin con questi dividendi? In sostanza con i profitti generati giornalmente si va a ricomprare il token Kucoin nella piattaforma e poi invia questo token ai possessori del token Kucoin, che già avevano ovviamente i Kucoin. Quindi i possessori possono scegliere se accumulare Kucoin e avere sempre più dividendi oppure se vendere i dividendi. Quindi questa è la scelta che possono fare i possessori di Kucoin. Kucoin è l'unico tra questi exchange che dirò in questo video che ha un supporto in ogni lingua. C'è anche stranamente il supporto in italiano, che non è una cosa ovviamente da poco in questo settore di nicchia. E c'è anche un gruppo Telegram che aiuta in ogni occasione. Quindi ve lo linko qua sotto se volete dare un'occhiata e se volete magari investire in Kucoin. Kucoin è un exchange, come dicevo prima, che si sta sempre rinnovando. È presente l'app mobile molto ben fatta. Credo che l'abbiano rilasciata ieri. Non è da tutti avere un'app. È fatta simile a Binance, ve la faccio vedere. È veramente molto carina come è fatta e intuitiva. E secondo me ci sta come app da exchange. Poi Kucoin ha introdotto proprio ieri Kucoin 2.0. Ci sono tantissime nuove funzioni, sia dal lato trading come ad esempio Stop Order, Limit Order avanzato, migliorie, dal lato API, avviso di prezzo. Perché adesso ti avvisano anche se il prezzo di una criptovaluta dove hai messo l'interesse raggiunge un determinato prezzo. Quindi questo è molto interessante per chi magari fa trading o per chi vuole tenere tutto sotto controllo. Quindi exchange che si sta sempre rinnovando non solo dal lato trading ma anche dal lato sicurezza che è buonissima come costa, ve lo assicuro. Perché ripeto, vengono sempre hackerati di continuo. E adesso è presente anche la funzione come Coinbase su Kucoin di trasferire fondi da account ad account in real time. Quindi Kucoin per me su questa lista qua che farò oggi, secondo me è il meno rischioso tra virgolette dove investire per percepire dividendi. Quindi se proprio dovessi scegliere uno tra questi sceglierei probabilmente Kucoin. Passiamo al secondo. Il secondo token da exchange e quindi che rilascia dividendi è CryptoBridge. Se lasci token in stake percepisci i dividendi. CryptoBridge rilascia il 50% dei propri profitti e vi è però un costo per mettere in stake e per redimere questi token. Anche se è un costo basso, mi sembra all'incirca sui due Bridgecoin o CryptoBridge coin per metterli in stake e due per redimerli se non sbaglio. Per più tempo metti in stake questi token e più si guadagna. Per tre mesi si percepisce il 20% dei profitti di CryptoBridge, per sei mesi il 50%, per 12 mesi il 100%. Si viene pagati a fine periodo dello staking e CryptoBridge è una piattaforma, un exchange costruita sopra BitShare, come un po' Open Ledger. Già che ci siamo parliamo anche di Hobbitz. Hobbitz è sempre un token che in realtà rilascia dividendi prodotti da Open Ledger. Open Ledger è sempre un exchange prodotto sopra la piattaforma BitShare e in passato Hobbitz rilasciava dividendi in forma di BitUSD. Dopo, tramite una votazione, gli utenti che i possessori di questo token, perché Hobbitz permette anche di votare e fare delle scelte, hanno scelto di non percepire più dividendi in BitUSD, ma di fare con il 100% dei profitti derivanti da Hobbitz, di fare buyback del token Hobbitz, quindi si vanno a ricomprare a mercato il token Hobbitz ogni mese. Ci sono poi anche delle statistiche e dei dati che rilasciano in vari forum, vi faccio vedere questo ad esempio, e si comprano il token e lo bruciano, fanno buyback e barn. Quindi mensilmente viene fatto questo buyback e vengono rilasciate appunto delle statistiche. secondo me forse era meglio prima quando rilasciava i BitUSD come dividendo, però hanno votato la comunità e si è scelto di fare questo. Il token Hobbitz ha avuto un bel crollo, adesso si trova veramente a poco, quindi ogni mese anche Hobbitz dà in sostanza dei dividendi, anche se in realtà è un buyback, quindi potrei anche toglierlo da questa lista, però l'ho voluto nominare perché in passato dava dividendi in BitUSD, era veramente veramente comodo. Poi altro exchange è COS, rilascia il 50% delle proprie trading fee ai possessori del token e i possessori vengono pagati settimanalmente. Vengono pagati o in dividendi in fiat oppure anche in token che sono stati tradati. Mi sembra che il dividend yield di COS sia tra il 3 o 4% all'anno, non vorrei dire una scemenza, quindi mi sembra non ha un dividend yield molto molto elevato. Comunque è un token da dividendo. Fatemi sapere cosa ne pensate ragazzi anche di COS. Poi c'è oppure c'era Cryptopia Fisher che era il token da dividendo di Cryptopia. Cryptopia attualmente è stato hackerato, non sappiamo se riaprirà ragazzi, quindi non so che fine farà questo token. Io in realtà ci stavo per investire, mi è andato anche abbastanza bene perché due giorni dopo è stato hackerato, quindi io non ho fatto, non ho fatto l'investimento, mi è andata veramente veramente bene per una volta. Cryptopia Fisher ha un tetto massimo di 6300 pezzi e quindi un unico pezzo è arrivato che mi sembra costare anche 0.5 bitcoin l'uno, quindi costavano parecchio, però ovviamente il tetto massimo era pochissimo perché era un token molto molto raro, cioè erano solo 6300 pezzi. I possessori ricevevano dividendi mensilmente solo però del 4,5% di profitti mensili di Cryptopia e si veniva appunto pagati mensilmente. Questo era il token da dividendo di Cryptopia, però ripeto non so che fine farà, quindi anche questo può darsi che bisogna rimuoverlo da questa lista. Poi, altro token da dividendo che non tutti conoscono è Graviex. Graviex è un exchange che lista tantissime shitcoin, è vero? E tantissime monete da Masternod. I volumi di Graviex sono all'incirca tra il, mi sembra, 30 o 60 bitcoin al giorno, quindi non ha grandissimi volumi Graviex. È un exchange costruito su pezio, il layout è bruttissimo, ve lo faccio vedere, è questo. Però se ti vai a comprare il token Graviocoin ti rilascia i dividendi. Vi faccio vedere quelli che ho percepito io attualmente. Sono questi qua. Ovviamente è una cifra simbolica, l'ho messa solo per provare. Mi sembra che erano all'incirca 10 euro in bitcoin, quindi nulla di che. Però anche Graviex rilascia i dividendi. Graviex attualmente diciamo che è all'inizio, quindi si potrebbe pure entrare in Graviex, però è veramente estremamente rischioso con la speranza che cresca Graviex. Poi troviamo anche Bbox, Bbox è il token dell'exchange Bbox, paga settimanalmente. Prima dovevi fare trading per ricevere i dividendi, ora basta che ne lasci invece almeno 500, mi sembra, sull'exchange. Quindi è cambiato da poco il sistema di dividendi di Bbox, è anche Bbox, quindi è un token che rilascia dividendi. Poi altro token che non tutti conoscono da dividendi si chiama OneToken e è il token di BigOne, una piattaforma, sempre anche questa exchange. Paga dividendi giornalmente e BigOne rilascia il 100% delle trading fee ai possessori del token One. Mi sembra che qua in realtà sono fee derivanti dal mining prodotto, credo dal gas dell'exchange, non proprio dividendi veri e propri derivanti da fee, però anche questo in realtà è un token da dividendo. Poi ritroviamo anche CoinEx Token, che è il token appunto di CoinEx, altro exchange, che offre l'80% delle trading fee realizzate e ha anche un piano di buyback. Questo qua non mi sono informato tantissimo in CoinEx, non lo conosco benissimo e neanche conosco benissimo CoinBene Coin, che è la moneta e il token dividendo di CoinBene. Sembra che rilasci il 100% delle trading fee e niente, però qua non so veramente nulla su CoinBene, non ho trovato grandi informazioni e non ho mai investito in questo token da dividendo. Poi altra cosa molto rara che non tutti conoscono è Sato Wallet Share. In realtà questo qua è un'app che si trova sul Google Store mi sembra, forse anche sullo store per iPhone. E' un wallet più che altro, più che un exchange, è un wallet dove deve tenere criptovalute, però è un wallet con la funzione di exchange integrata. E quindi anche questo qua è un token che rilascia questa volta il 40% delle trading fee. La particolarità di questo token è che mi sembra che se ne compri un certo a montare, la società di Sato Wallet ti rilascia anche un gadget, mi sembra che è una valigia o uno zainetto, qualcosa del genere. Questi qua secondo me sono i token da dividendo per lato exchange, è interessante però ragazzi fate molta molta attenzione perché appunto possono essere hackerati e mi sono scolato anche per Graviex che gran parte del Graviex rilascia il 100% dei trading fee. Come fa a guadagnare Graviex? Graviex guadagna perché la società di Graviex ha grande parte del loro token, quindi è un massimo possessore del loro token, quindi potrebbe magari anche damparlo o chissà cosa. Quindi fate molta molta attenzione, ripeto se proprio devo scegliere, sceglierei Qcoin tra questi qua perché è senza dubbio quello gestito, probabilmente anche Bbox è buono, comunque è quello gestito meglio, quello che si sta sempre rinnovando, c'è il supporto ripeto in italiano con il gruppo Telegram e tutto. Quindi sceglierei tra questi attualmente Qcoin. Questi sono quelli che conosco io ragazzi, fatemi sapere anche quelli che conoscete voi qua sotto nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!